Presentata all'auditorium di Zernia Sismica Online, la nuova piattaforma digitale del deposito sismico. Un'innovazione senza precedenti nella regione, quella lanciata dalla PA Digitale Adriatica, che permetterà al Molise di fare passi da gigante nell'automazione delle procedure tecnico-burocratiche. A sostenere l'iniziativa e a illustrarne gli innovativi contenuti è Roberto Di Baggio. Consiste principalmente di dare la possibilità ai tecnici, ma poi alla fine ai cittadini molisani che presentano delle pratiche dove necessita di autorizzazione o deposito sismico, di farlo in maniera veloce e nel giro di poche ore. Questo è l'obiettivo che abbiamo nel giro di pochi mesi. In questo mese sarà attivata la piattaforma e ci auguriamo che ci sarà un risparmio sia dal punto di vista dei tempi per le pratiche, ma anche dal punto di vista del lavoro proprio dei dipendenti regionali, ma addirittura della carta. Attraverso la nuova piattaforma informatica sarà infatti possibile velocizzare e ottimizzare tutte le procedure necessarie al perfezionamento delle autorizzazioni. Ecco come un rappresentante della PA digitale spiega questa importante novità che farà guadagnare al Molise tempo e risparmio. Questo è un primo progetto importantissimo perché dà la possibilità ai tecnici di poter inviare comodamente dal proprio studio il deposito sismico, quindi senza più prendere appuntamenti presso gli uffici regionali o presso i comuni e quindi evitando anche di stampare i progetti, firmando digitalmente i progetti elettronici ed inviando tutto online. Quindi con un semplice clic si riesce ad essere più veloci e ad ottenere risposte anche dalla regione Molise in modo più celere. Il consigliere Dilucente ha sottolineato l'obiettivo di offrire ai cittadini una regione 2.0 grazie a uno strumento che renderà quanto mai smart la presentazione delle pratiche regionali. Oggi presentiamo qui a Esernia il primo strumento che serve principalmente ai tecnici per la presentazione di pratiche regionali. Successivamente andremo a presentare altri strumenti che stiamo costruendo in questo periodo per poter portare e ridurre quel gap che c'è tra la regione Molise e i cittadini, i tecnici e quel gap che c'è tra le regioni Molise e le altre regioni d'Italia. Grazie a tutti.